Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi, buon giovedì mattina e bentornati nella nostra rubrica 5 minuti oltre le nuvole dove quest'oggi, come avrete visto dal titolo, ci occupiamo della paura Carlo ha mandato una mail con una bella domanda, saluto Carlo, ciao Carlo è un pochino che non ci vediamo ma appunto utilizziamo in maniera proficua anche questi mezzi ha mandato una mail dove mi chiede, mi dice hai parlato molto dell'amore nell'ultimo periodo beh bene, sono in una fase positiva poetica, ho parlato molto dell'amore cos'è per te la paura? Potresti approfondire anche il tema della paura e non è un caso secondo me che dopo le mie parole sull'amore a te venga una domanda sulla paura perché, lo dico sin da subito, l'opposto dell'amore non è l'odio, è la paura molti pensano che l'opposto sia l'odio in realtà l'odio è lo stesso amore quando viene contaminato dalla paura più aumenta la paura più l'amore si trasforma in odio, prende il volto dell'odio ma è la medesima energia ma adesso lo vediamo, fra un secondo cosa voglio dire? alcuni veterani del mio lavoro di questo spazio diranno ma hai già parlato in altri momenti della paura ma in realtà ho parlato di tutto è solo che ogni giorno le cose sono nuove la nostra consapevolezza si amplia le possiamo vedere in modo più profondo magari la mia capacità di esporle migliora magari anche la capacità di alcuni di ascoltare io ho molta fede in questa cosa migliora magari ci sono persone nuove che non hanno mai sentito parlare di questi temi e poi un'altra cosa mi viene da dire appunto a queste persone nuove dico che potete trovare tutte le mie riflessioni su youtube nella playlist tutti i video sono divisi per categorie ci sono più di 1200-1150 video oppure potete anche leggere il mio libro il virus benefico lo trovate un po' ovunque oppure mi scrivete una mail e vi spiego come riceverlo magari anche con una piccola dedica il virus benefico è un testo piccolino dove do alcuni spunti di lettura del nostro tempo e di noi stessi diciamo come poter attraversare trasformare alcune sfide esterne ed interne virus benefico c'entra niente col virus e la fase di delirio pandemica è stato scritto nel 2018 molte cose però sono anzi secondo me è totalmente attuale anche se sono passati ormai 6 anni quasi 7 boh fatta questa premessa vorrei anche dire a chi molte volte fa queste osservazioni dicendo ma questa cosa l'abbiamo già trattata provate a pensare ad un aspetto anche il nostro vivere si ripete ogni giorno ci alziamo, ci laviamo i denti facciamo colazione almeno spero che vi laviate i denti che fate colazione che tutti facciano colazione una buona colazione andiamo a lavorare facciamo l'amore lo spero per tutti voi o che sia arrivato il tempo della pace della quiete dei sensi la sera ci laviamo nuovamente i denti andiamo a dormire la mattina ci alziamo guardiamo il cielo e la mente cosa può dire? oh il solito cielo ha i fiori i soliti fiori il solito lavarsi i denti è vero o no? la mente a volte guarda tutto in una maniera arida sterile eppure tutto è ciclico ma tutto quando è vissuto totalmente è sempre nuovo e meraviglioso non è mai uguale nemmeno bere un bicchiere d'acqua a mio avviso la stessa cosa è la dialettica viva è quello che era il logo su un tempo allora stai entrando nella paura o nell'amore ed è sempre un entrare nuovo ieri abbiamo detto le stesse cose ma non è ieri sarebbe ancora più forte questa cosa se fossimo in presenza uno di fronte all'altro però è chiaro questo aspetto attenti alla mente che sterilizza e dice eh è uguale già detta già capita no? non è vero la comprensione è sempre nuova allora entriamo nella paura Carlo chiede cos'è dal mio punto di vista la paura la paura è assenza di presenza di amore di libertà di fiducia utilizzando nuovamente una metafora estremamente efficace la paura è buio prova a definirmi il buio cos'è il buio la notte buio notte totale buio sei in una stanza completamente chiusa cos'è il buio è è è difficile vero definire il buio accendiamo la luce cos'è la luce la luce illumina ogni cosa la luce è quella lampadina lì che attraverso l'elettricità sta emanando luminosità e mi permette di vedere quindi la luce diciamo che manifesta ogni cosa il buio è la non manifestazione se devo definire il buio in un qualche modo posso dire che sembra essere un'assenza è assenza di luce la paura è assenza di coraggio di voglia di entrare nelle cose di vedere di sentirle di amare di essere aperti è assenza di apertura di percezione di vista è per questo che come ho detto in altri momenti a mio avviso nei Vangeli c'è un passaggio una parola che non viene molto una frase almeno io non l'ho sentita molto approfondita bene che dice non resistere al male cosa significa al male anzi poi un certo cristianesimo ci insegna a lottare contro il male vero c'è la lotta fra il bene e il male ma nei Vangeli c'è un passaggio che dice non lottare contro sta intendendo questo dove c'è male dove c'è guerra dove c'è odio dove c'è disperazione non fare una guerra non metterti a giudicare essere antagonista non lottare col buio puoi lottare c'è una stanza buia adesso mando via il buio no premi il pulsantino accendi una candela ti metti con le pietre focaie premere il pulsante accendi fai quello che vuoi basta che accendi la luce quindi ci sta dicendo investi nella creatività apriti ama esci dalla frattura dalla divisione torna all'unità perché l'unità è importante il non sentirsi divisi perché se noi osserviamo la paura ci sono infinite paure ok abbiamo definito questa sorta di assenza di presenza di luce questa assenza crea un'infinità di ombre di mostri di tutto c'è chi ha paura degli spazi aperti di parlare in pubblico dei ragni pensatene voi ce ne sono un'infinità di paure ma primo se osserviamo intanto stiamo iniziando proprio invitandovi ad osservare le paure cercare di comprenderle capite che stiamo accendendo la luce quando vedi apri gli occhi stai aprendo la luce perché il tuo vedere è la nostra luce interiore il tuo osservare comprendere è la luce interiore quella cosa che sei tu prima e dopo ogni pensiero manifestazione è venuta con te è con te dal principio sei tu intelligenza in movimento allora usa usati nel senso reale del termine sii te stesso intelligente totale aperto guarda guardo la paura allora già si crea una distanza e capisco che io sono questa presenza questa intelligenza che sta osservando per osservare sto già creando coraggio perché l'intelligenza è in sé coraggio è una sua qualità crea una distanza e osservo le cose già questo processo attenua la paura e mi accorgo che non mi sono permesso di osservare per una sorta di caduta in una spirale che qui abbiamo trattato molte volte ma torniamo qui ed ora nel nuovo cioè cadiamo nella paura di aver paura ci insegnano o a rifiutarla che è sbagliatissimo non devi aver paura già il non dovere l'ordine è una forma di paura perché stai imponendo una cosa perché non lasci che le cose siano non devi già questa sorta di imposizione negativa ci trasmette paura nasce dalla paura nasce dalla paura il non dovere osservo comprendo se una cosa è sciocca da sé non la faccio se una cosa è intelligente la perseguo non devi aver paura quindi veniamo un po' portati alla non compressione lanciati fallo a rimuovere e negare la paura o a fuggirla evita beh ma se ti dà disagio parlare in pubblico ti dà disagio ma beh puoi trovare un altro lavoro dove non serve diciamo che c'è la strada kamikaze che non è comprensione affrontale buttati sì per certi versi è meglio del fuggire sempre ma non c'è comprensione quindi molte volte diveniamo estremamente reattivi io vorrei suggerire quella via molto equilibrata di mezzo che ci porta anche ad una crescita osserva per osservare devi confrontarti con le cose che ti spaventano e quindi devi anche provare è chiaro che non puoi osservare le cose seduto su una sedia hai paura di parlare in pubblico vai e parla ad un piccolissimo pubblico prendi tua zia tua nonna e il gatto polli e parla a loro e osserva ascolta percepisci che cosa emerge e lascia che emerga ecco allora che disinneschi il processo di aver paura della paura che come ho detto si manifesta o nella rimozione mi lancio io non ce l'ho la paura e così si fai cose ma estremamente ottuso come se tu fossi la punta di una lancia fai male a te stesso e agli altri oppure scappi e a forza di scappare la vita si riduce in pubblico non parlo quella ragazza non la conosco quel lavoro non lo faccio e si peggiora giusto quindi nel momento nel momento in cui osservo e affronto le cose con questo approccio sto accendendo la luce sto ascoltando sto comprendendo sono presente a me stesso e osservando le cose le vedo per ciò che sono sparisce quell'emozione quella sensazione che poi se l'analizzo che cos'è l'idea che ciò che ho di fronte mi possa distruggere paura che cos'è è legata alla morte questa cosa che accade mi può distruggere allora c'è chiaramente qualcosa di fisico che mi può distruggere quindi c'è addirittura una paura direi quasi istintiva profonda biologica che può anche avere un senso ma noi siamo pervasi invasi da paure psicologiche che sono relate cos'è cos'è questa paura paura di morire ma che cosa significa morire a livello psicologico ecco che arriviamo all'amore essere nulla annientati non visti inesistenti provate ascoltatevi scrivetemi nei commenti ma se tu ti ascolti le tue paure psicologiche vengono da un terrore di morire ma morire psicologicamente che cacchio significa morire fisicamente lo posso capire ma a livello psichico morire all'idea che ho di me stesso e quando è che l'idea di me stesso muore quando mi sento rifiutato scacciato giudicato annientato quando io non riesco a sentirmi parte della vita unito alla vita ecco che non sento amore la mancanza d'amore soprattutto soprattutto nelle fasi del nostro sviluppo e crescita spegne la luce ed emerge la paura devo essere in questo modo devo fare così devo comportarmi così altrimenti non vengo accettato ma questo non è amore quindi fai un'infinità di compromessi vivi sempre teso aumenta la paura e accetti questo schema ma non è amore non hai trovato una soluzione adattandoti compiacendo vi ricordate quando abbiamo parlato del compiacere vivrai in una sorta di inganno tu credi speri ipotizzi di trovare l'unità non la troverai mai allora devi guardare questa paura vedere che in realtà non c'è un reale contatto e se vivi in questo modo con questa paura anche qualora trovassi qualcuno capace di amarti che ti accoglie per ciò che sei non accogliendoti tu per primo non riuscirai mai ad affidarti perché non ti affidi a te stesso possiamo anche dire che se osserviamo la mancanza di una condizione di uno stato d'amore quando siamo piccoli ci sconnette dal nostro essere non divisi in pace con noi stessi il non amore intorno a noi inizia a crearci delle leve delle condizioni dei condizionamenti tu per essere devi ma non esisteva prima lo stato naturale non dice devo essere per essere devo la vita non mi ha chiesto non mi ha detto guarda che tu dovresti essere così e così se no non nasci sono nato giusto? che poi è tutto da vedere cosa è nato magari io non sono mai nato e non morirò mai ma questo è un altro discorso però è vero o no? sembra che la natura la vita l'universo della mia stessa nascita non mi abbiano posto delle condizioni poi le relazioni umane molte volte le pongono e lì cadiamo nella scissione illusoria nella frantumazione illusoria se osserviamo questa cosa iniziamo a comprendere che dobbiamo tornare a far pace col nostro essere e reimmergerci nel nostro semplice essere in pace in amore qui ed ora con noi stessi potrei anche togliere la parola noi stessi perché quando sei presente non senti un te stesso c'è uno stato di vita e di presenza ecco che a quel punto incontri le altre persone molto più leggero tranquillo fiducioso se arriva un giudizio lo valuti ma non ti piega non ti metti in guerra non entri in uno stato di conflitto di fuga cerchi di compiacere l'altro lo valuti se ha senso bene grazie se non ha senso guardi la persona e dici perché stai giudicando perché sei così aggressiva magari capisci che sta male che vive nella paura quando la paura sale quando iniziamo a a perderci ad alienarci quando la luce si abbassa ecco che l'amore viene contaminato dall'odio ma non è una cosa opposta quindi se mi avete seguito l'opposto dell'amore è la paura che però è un'assenza quindi dovete lavorare sull'accendere la luce siate presenti osservate affrontate le cose guardatele e capite il meccanismo di aver paura della paura che vi porta ad una spirale a un circolo vizioso quando la luce si affievolisce aumenta l'ombra l'oscurità la paura ecco che l'energia dell'amore si può girare in odio che in realtà che quando quando è che odiate una persona quando in realtà tenete quella persona c'è un legame c'è un'energia però magari vi delude non corrisponde ai vostri sogni progetti pensieri questo significa che c'è in voi una grande parte di necessità di trovare corrispondenza è qui la paura che le cose siano corrisposte e molte volte iniziamo a mentire quando le cose cambiano o l'altro mentre noi perché la relazione è infettata dalla paura allora stiamo su più piani abbiamo più relazioni è bellissimo avere più relazioni ma non quando sono in contraddizione una con l'altra e nascondiamo non diciamo vero lì è il problema di la moglie la botte piena alla moglie ubriaca o se volete oggi in versione più smart il marito ubriaco che forse ci sta di più vabbè però adesso non voglio approfondire troppo gli opposti la paura l'odio stiamo alla radice della paura spero di aver comunicato condiviso sufficientemente bene questo aspetto scrivetemi qui nei commenti cosa ne pensate che cosa avete compreso anche di quel che ho detto e ci torneremo ogni giorno apriamo uno sguardo nuovo e magari andiamo sempre più in profondità e tanto andiamo in profondità tanto ci leviamo sopra le nuvole 5 minuti l'altra rubrichetta del sabato 5 minuti oltre le nuvole della paura bene ragazzi ci fermiamo qui oggi condivisione breve non siamo in diretta è chiaro farò alcune modifiche ma le sto elaborando sulla tempistica le nostre rubriche gli iscritti gli abbonati perché è necessario fare delle modifiche chiudo ricordandovi che il vostro sostegno è fondamentale il mio lavoro vive solo grazie a voi siete voi i miei sponsor i miei datori di lavoro tutto quindi chi volesse ora vedrà scorrere i dati per fare un piccolo abbonamento attraverso il sistema paypal oppure attraverso iban oppure potete dare un contributo una volta ogni tanto quando volete quando potete qualcuno ogni tanto mi chiede quanto per l'abbonamento non è un abbonamento è una donazione ripetitiva diciamo quanto quanto non vi pesa la risposta è qui quanto non vi pesa ciò che non vi pesa minimamente potete quella è una donazione sensata bene carissimi noi ci vediamo beh con i nostri brevi frammentini mini video anche domani ma con la rubrica 5 minuti oltre le nuvole ci vediamo sabato mattina dove parleremo del fallimento quindi in un certo senso approfondiremo un altro po' la paura la paura di fallire che fidatevi ha fatto più più strage di sogni progetti la paura di fallire che il fallimento vero il vero assassino dei nostri sogni dei nostri progetti è la paura di fallire quindi di nuovo la base è la paura però guarderemo bene il concetto di fallimento che permea la nostra società anche troppo bene ci fermiamo qui un carissimo abbraccio buonissima giornata a tutti ci vediamo sabato mattina ciao fanciulli ciao a tutti ciao a tutti